La seconda modalità è il proprietario che ti dice sì sì conosco la situazione ma ho già risolto, quindi vuol dire che abbiamo un proprietario che è conscio di che cosa succede e ha già provato a mettere, a porre delle soluzioni. Quindi diffida da questo perché come abbiamo letto nel video precedente tu arrivi documentato con della documentazione aggiornata, ovviamente non stai andando con dei documenti di sei mesi fa, è una pubblicazione che c'è, che esiste e quindi tu arrivi a dire ho capito come avete gestito la cosa e possono dirti sono andato dal parroco, mi è successo, ho parlato con il sindaco, è successo anche questo, ho parlato con il mio avvocato, poi ti faccio un video apposta per l'avvocato, oppure è già tutto a posto perché ho pagato. Potrebbe capitare effettivamente che ha pagato e ha chiesto una sospensione perché ne ha diritto o perché ha concluso, però quando trovi un proprietario che ha realmente concluso la sua posizione lo trovi sempre molto preparato. Quindi ti elencherà, no no ho già fatto così, ho già avuto la rinuncia, ho qua il saldo perché mi faccia capire perché la casa è ancora pubblicata, lo trovi è un proprietario molto attivo e conscio di quello che accade. In tutti gli altri casi sarà un po' evasivo, sì sì ma io conosco il sindaco che non ha nessun potere nei confronti di una persona che non ha pagato. Quindi cerca di capire questo, una volta che sei sul terreno del non è risolto niente perché magari hai 100.000 euro di debiti con la banca e 7.000 euro di debiti con il condominio e hai pagato 1.000 euro, hai perso 1.000 euro, non è risolto niente. Quindi a quel punto devi cercare di capire e portarla su un aspetto nuovamente tecnico come nel video precedente dicendo che cosa avete fatto, mi permette di avere una delega gratuita, non impegnativa per aiutarla a capire com'è la situazione perché io faccio questo e quest'altro. Tra l'altro ti consiglio di includere la delega nella seconda lettera che abbiamo visto nei video precedenti, ti rimando al primo. In questo modo hai una persona che parla di una cosa che ha già visto, che poi lui conosca o non conosca, l'abbia fatta vedere al suo avvocato, alla persona di suo riferimento, al commercialista, questo è un problema suo ma tu gli hai dato tutta la documentazione. Per lui è già accessibile, ok? Quindi ti consiglio di fare così. Seguimi nel prossimo video perché andiamo a vedere che cosa succede e come comportarci quando ti parla del suo avvocato. Ok? Al prossimo. Al prossimo.